È con grande piacere che vi presento un intervento che è un momento di riflessione sul cambiamento climatico. Questo talk, intitolato Narrare il clima, il climate change fra scienza e fiction, è tenuto da Danilo Zagaria. Danilo è un biologo di formazione che ha un dono per la scrittura. Come redattore freelance ha incantato i lettori con le sue storie avvincenti sulla scienza, l'ambiente e i libri. Le sue parole sono state pubblicate su diverse piattaforme, tra cui la lettura del Corriere della Sera. Danilo è anche un appassionato divulgatore scientifico, impegnato nell'organizzazione di attività culturali volte a promuovere la lettura e la scrittura. Il suo libro, In alto mare, pubblicato da Adeditore nel 2023, è stato riconosciuto come finalista al prestigioso premio Galileo per la divulgazione scientifica nel 2023. Oggi abbiamo il privilegio di ascoltare Danilo mentre ci guida nel mondo affascinante della scienza, della letteratura e della narrazione. Siamo entusiasti di averlo qui con noi, benvenuti. Danilo. Grazie, grazie Eleonora per la presentazione, grazie mille per essere qui. Se sto qui, va bene? Sì? Perfetto. Bene, allora come ho detto adesso Eleonora, io oggi tento di raccontarvi appunto di questo legame complicato, cioè fra il clima, la crisi climatica che è una delle delle più grandi sfide che dovremmo affrontare nel corso di questo secolo e la narrazione, in particolare la letteratura. Poi posso ovviamente parlare di narrazione e possiamo intenderla anche in senso più ampio, però nello specifico parlerò di fiction, cioè quella che non è la saggistica o la saggistica narrativa, ma proprio la narrativa pura, quindi la narrazione. Comincio questa chiacchierata raccontandovi alcuni episodi personali, perché io sono un laureato in biologia, ho studiato all'Università di Torino e poi a un certo punto ho abbandonato la strada universitaria, non volevo più andare avanti e ho iniziato a lavorare nel mondo dei libri, che era quello che mi appassionava da sempre, quindi libri, leggere, la letteratura. Ho iniziato a collaborare con casi editrici e con riviste che si occupavano di letteratura e ricordo ancora con piacere che uno dei primi lavori che ho ottenuto è stato un impiego, non possiamo neanche definirlo impiego, insomma una collaborazione con una rivista che si occupava di letteratura che si chiamava Finzioni, che adesso non esiste più, era una rivista online. Era una rivista online e io ovviamente entrai in questo contesto dove erano tutti o laureati in letteratura o comunque in lingue, quindi insomma io ero l'unico che aveva studiato una materia scientifica, quindi venni subito identificato come quello che si occupa di scienza e quindi decisi subito di sfruttare questa cosa e così proposi una rubrica, poi Finzioni era un posto un pochino strano, il nome che scelsero per questa rubrica era Il Miglio Verde, Il Miglio Verde ricorderete il famosissimo film con Tom Hanks che in realtà è basato su un romanzo bellissimo di Stephen King, si chiamava Il Miglio Verde così perché c'era qualche legame con il mondo appunto dell'ecologia e altro. Il mio obiettivo nello scrivere questa rubrica era appunto trovare dei libri che in particolare di narrativa che parlassero anche di ecologia, pensiero ecologico, crisi climatica, insomma tutti gli argomenti che possiamo inserire nel grande calderone che a volte viene chiamato green o cose di questo tipo. E io all'inizio ero convinto che sarebbe stata una passeggiata, ho detto ma sì cominciamo e andiamo. Esauriti i primi due o tre libri, romanzi insomma che erano un po' famosi e che si leggevano all'epoca, mi accorsi che c'era una penuria clamorosa di testi che parlavano di questi argomenti e che raccontavano storie su questi argomenti. Quindi mi ritrovai senza materiale in sostanza. E all'inizio fu difficile, così la cosa che mi venne in mente di fare, ricordo ancora, era la primavera del 2015, io sono di Torino, a Torino cosa puoi fare se hai bisogno di trovare dei libri? Vai al Salone del Libro di Torino, ok? Quindi grande Kermess, la più importante dell'editoria in Italia. Vado al Salone del Libro di Torino e mi ricordo che mi imposi di girare per tutti gli stand che trovavo, chiedendo avete della narrativa, delle opere di fiction sul cambiamento climatico, sulla crisi climatica, sull'inquinamento, insomma su vari temi di questo tipo. E ricordo che fu particolare la cosa, nel senso bizzarra quasi, perché andavo, questi stand, queste persone mi guardavano un po' strano e alla fine mi consigliavano dei libri particolari, mi davano o delle raccolte, strane raccolte di poesie balcaniche, insomma cose stranissime. Ricordo mi hanno proposto un volume di poesia ungherese, e ho detto, ma ok, il legame forse c'è, però non lo vedevo tanto, no? Oppure libri sulla montagna. Nella testa delle persone il legame, come dire, letteratura o comunque scrittura ed ecologia era la narrativa della montagna, il racconto della montagna, non c'era nient'altro. Quindi dissi, va bene, ok, devo fare in qualche altro modo e così ho cominciato poi a tirare un po', come dire, la cosa per i capelli, ho inserito grandi classici, ricordo che avevo scritto diversi articoli sulle opere di Calvino, insomma erano un pochino tirate le cose. E poi cos'è successo? È successo che, ricordo, era il 2015, negli anni successivi sono cambiate tantissime cose, sono cambiate tantissime cose perché negli anni dieci, a metà degli anni dieci in particolare, per quanto riguarda il discorso sul cambiamento climatico, sono cambiate tantissime cose, ne ricordo alcune. Innanzitutto nel 2015 c'è stato il grande accordo di Parigi, lo ricorderete, no? Quindi tutti i paesi del mondo in sostanza hanno sottoscritto questo grande accordo internazionale che era quello che avvertiva il mondo di stare al di sotto dell'1,5 massimo 2 gradi di riscaldamento sopra la media preindustriale, obiettivo fra l'altro che stando alla situazione attuale difficilmente riusciremo a raggiungere, si andrà, come dire, probabilmente al di là. Quindi questo grande accordo fu una delle prime cose importanti che successero. Poi ci fu uno straordinario movimento giovanile, no? Ricorderete tutti Greta Thunberg che ha dato il via a questo movimento con i famosi sciopri del clima e cos'è successo? Prendeci è stato un passaggio, io ho anche un passato nell'attivismo ambientalista, quello vecchio, cioè quello che è nato negli anni 70, tutti sapete che cos'è più o meno Greenpeace, più o meno? Sono movimenti ambientalisti nati negli anni 70, quindi erano quelli diciamo vecchi, no? Negli anni 10 che già avevano decenni sulle spalle, il movimento giovanile ha cambiato tutto, nel senso che adesso le varie associazioni che ci sono, per esempio Fridays for Future, sono dei movimenti giovanili fatti da persone che sono giovani, le famose nuove generazioni, no? Sono loro. Quindi c'è stato questo passaggio che è stato importantissimo. Poi cosa c'è stato? Il Papa ha scritto un'enciclica dedicata al tema, all'ambiente, l'ha laudato sì, è stata famosissima, ha parlato ai fedeli di tutto il mondo e ha raccontato che c'era un problema importante, no? Che bisognava cercare di risolverlo. Poi ci sono stati anche aspetti negativi. Alla Casa Bianca c'era Donald Trump, cioè il negazionismo alla Casa Bianca, l'uomo più potente del mondo era sostanzialmente una persona che non credeva nel cambiamento climatico e che ogni volta riusciva a dire una cosa ancora peggiore della precedente sul cambiamento climatico, no? Quindi ci sono state tantissime cose. Ovviamente in quegli anni poi sono emersi i rapporti dell'IPCC, che è questa grande associazione, possiamo quasi chiamarla un raggruppamento che fa parte delle Nazioni Unite e che pubblica dei rapporti sul clima. E in quegli anni sono usciti quelli più corposi, no? Quelli che hanno dato proprio il, come dire, il materiale su cui poter lavorare, no? Quindi sono cambiate tutte queste cose e il risultato qual è stato? È stato che durante la pandemia, che fra l'altro è stato un momento, un altro momento importante in cui per forza di cose ci siamo messi a ragionare sul nostro rapporto con il pianeta, sono arrivati tantissimi libri, una marea. Di solito l'editoria è un mondo che si muove un pochino in ritardo, no? Rispetto a quello che succede nell'attualità perché ci vuole un pochino di tempo. Negli anni, insomma, 2019, 2020, 2021, sono arrivati tantissimi libri, veramente le librerie sono state invase. Io mi occupo anche appunto per il Corriere della Sera di recensire questo tipo di libri. All'inizio, quando non usciva uno, era una gran festa per me perché c'era qualcosa su cui lavorare. Ebbene, dopo questi eventi e nel 2020, 2021, ne sono arrivati talmente tanti che io oggi non riesco assolutamente a stare dietro a tutte queste uscite. Cioè c'è una marea di roba su questi argomenti, quindi chiunque si voglia informare in realtà ha del materiale. Attenzione però, io in realtà ero alla ricerca molto spesso di narrativa su questo tipo di argomenti. In realtà i libri che sono arrivati adesso e che invadono le librerie, fateci caso la prossima volta che andate. Io sono detto c'è una bella sezione scienza o ecologia, molto grande, una volta non c'era proprio, c'era solo scienza, un pezzettino al fondo. Di narrativa c'è ben poco. C'è ben poco però per un preciso motivo, che adesso andiamo a raccontare. Ed è qualcosa che è stato anche definito da alcuni critici o da alcune persone che si occupano di queste cose. Questo buco, cioè il fatto che non ci sono storie su questo argomento, è stato chiamato per esempio da Amitav Ghosh, qualcuno di voi lo conosce, non avete mai sentito nominare, Amitav Ghosh. È un importante scrittore indiano che scrive romanzi, sostanzialmente, ma a un certo punto della sua carriera ha iniziato a occuparsi molto di crisi climatica. E a un certo punto ha scritto anche un saggio che si intitola La grande cecità in italiano. E la grande cecità è proprio questa, cioè il fatto che c'è questo enorme problema e la narrativa, le storie che raccontiamo in qualche modo non se ne occupano, c'è questo buco. L'altro grande personaggio che ne ha parlato e lo ha studiato questo fenomeno, per esempio Jonathan Safran Foer si chiama, che anche lui è uno scrittore famoso, forse avete visto magari qualche libro tratto dai suoi, cioè qualche film tratto dai suoi libri, e lui ha definito le storie che si occupano di questi argomenti come, come dire, storie difficili da raccontare. Su questi temi non si riescono a fare buone storie. Ma perché? E' questo quello che cercavo di spiegarvi oggi. Vi racconto un po', andando per punti, quali sono le difficoltà che incontra un narratore oggi nel raccontare un fenomeno complesso come il cambiamento climatico. Ok? Quindi andiamo per punti. Allora, il primo. Il primo è, come dire, una difficoltà che riguarda la tipologia di fenomeno che è il cambiamento climatico. Ok? Lo ha definito molto bene una filosofa tedesca che si chiama Heva Horn, che si occupa di catastrofi. Un bellissimo lavoro, occuparsi a livello filosofico di catastrofi. È molto interessante il suo lavoro. Ha scritto diversi libri tradotti anche in italiano. In uno di questi si è anche occupata di crisi climatica. E lei dice, proprio utilizza questa formula per spiegarlo, dicendo che la crisi climatica è una catastrofe senza evento. Cioè è una catastrofe che si verifica senza una deflagrazione. Cioè, fermiamoci un attimo a pensare, le catastrofi che conosciamo e quindi, non so, terremoti, maremoti, guerre, guerre nucleari, no? Che occupano la nostra idea di catastrofe. Sono tutte catastrofi che in qualche modo si verificano in un momento preciso o in un periodo di tempo piuttosto limitato, ok? Abbiamo un'idea, una guerra, la seconda guerra mondiale è durata cinque anni, un periodo lì, no? Un terremoto dura pochi minuti. Quindi sono eventi precisi, puntuali. Il cambiamento climatico in realtà è qualcosa che riguarda la storia geologica, in sostanza, del pianeta. Qualcosa che va al di là della vita umana, no? Quindi è difficile per noi soltanto pensarla, no? Qualcosa come una crisi climatica. Si parla non solo di decenni, ma di secoli, addirittura di millenni. Se andiamo a vedere gli studi scientifici, ci dimostrano come, per esempio, non so, la quantità di CO2 fosse più bassa di quella attuale, non so, un milione di anni fa, 800 mila anni fa. Noi queste cifre facciamo veramente fatica anche solo a immaginarle. E quindi raccontare una storia è difficile, perché le storie in realtà sono radicate nel momento. Una storia ricopre di solito, non so, pochi anni, pochi decenni, qualche secolo. Non so, se andiamo a vedere, per esempio, la fantascienza, che è uno dei generi che ha più lavorato su questo, bene, la fantascienza riesce, per esempio, a volte arrivare a coprire secoli, millenni, addirittura in certi casi. Però le storie che sono più diffuse in realtà non lo fanno, no? Pensate a un giallo, un giallo magari copre, oh Dio, dieci anni, un cold case da risolvere, no? Dura, boh, venti, trent'anni, però dura quel momento lì. Quindi è difficile, come dire, l'inquadramento narrativo del cambiamento climatico, molto complicato. E questo è il primo punto. Secondo punto, torno qui perché così vi faccio un elenco giusto e non mi perdo i pezzi, secondo è quello dei responsabili o dei protagonisti. Il cambiamento climatico ha dei responsabili, sì, nel senso che noi sappiamo qual è la causa della crisi climatica, no? Quindi un utilizzo eccessivo di combustibili fossili, che noi usiamo da 150 anni, più o meno, in modo massiccio. Ci sono dei responsabili fisici, delle persone, ma difficile dirlo, però si potrebbe dire, non so, quella grande multinazionale, quella grande azienda del petrolio, beh, forse è più responsabile di me della crisi climatica. Però in realtà anch'io sono responsabile della crisi climatica, nel senso che tutti in realtà ci sentiamo coinvolti in questo problema, no? E il famoso discorso, ah, usa meno la macchina perché così impatti di meno, no? Tutti noi siamo coinvolti. Quindi se ci pensiamo bene è difficile trovare storie che abbiano per protagonisti tutti. È molto difficile questo. Di solito c'è un protagonista, un antagonista che, insomma, hanno un rapporto, varie persone, personaggi, anche opere con tantissimi personaggi, riguardano difficilmente tutta l'umanità. È difficile fare questo. È difficile quindi avere, per esempio, un antagonista, quindi un protagonista negativo all'interno di una storia che tratta il cambiamento climatico. Che esempio possiamo fare di storie che ce l'hanno? Pensiamo un attimo, non so, due famosi film che sono tratti da famosi romanzi. Lo squalo di Steven Spielberg, Jurassic Park, entrambi basati su romanzi, sono entrambi romanzi e film in cui, diciamo, la natura, in questo caso interpretata, potremmo dire così, da animali agisce contro i protagonisti umani. Detta in soldoni è questo. E anche quando invece si va nel, come dire, su scala planetaria, pensiamo ai film catastrofici dovuti all'impatto di corpi celesti con la Terra, Armageddon, non so se lo ricordate, di Pimpact, insomma, tutto quel filone di film catastrofici. Anche in quel caso la natura è, come dire, impersonificata da un grande evento. Però anche in quel caso lì ce l'abbiamo, un protagonista negativo. Il cambiamento climatico è difficile trovarlo, questo protagonista. Cosa parliamo? Cosa raccontiamo? La storia dal punto di vista della CO2, delle molecole di metano, raccontiamo la storia da parte di una specie in pericolo che si sta estinguendo a causa della perdita di biodiversità e di habitat. È molto difficile, è molto complicato trovare dei protagonisti per le storie che riguardano il cambiamento climatico. Poi di storie ce ne sono, che parlano alla fine e poi vi farò qualche esempio. Però sono veramente difficili da trovare. Non avevo previsto il cambio di foglio. Allora, terzo punto, quindi abbiamo detto protagonisti, la difficoltà di inquadramento narrativo, arriviamo quindi a ciò che fa sostanzialmente funzionare le storie. Ora, noi sappiamo che il cambiamento climatico ha delle cause e gli scienziati ormai da diversi anni cercano di spiegarci queste cause. Quindi ci raccontano i legami causa-effetto. Quindi, appunto, l'ho detto prima, noi usiamo più la macchina, combustione, emissioni di energia carbonica, di metano, alterazione dell'effetto sera. Insomma, sappiamo più o meno a grandi linee qual è la catena. Però abbiamo delle difficoltà, nel senso che chi comunica la scienza lo sa benissimo. Parlare del cambiamento climatico e crisi climatiche è molto difficile. È molto difficile spiegare tutti i legami, tutte le concatenazioni, tutti i rapporti di causa-effetto che ci sono. È veramente molto difficile. Quindi è come potremmo dire che la crisi climatica, sì, a grandi linee si conosce, ma non sappiamo bene innescare nella mente delle persone questa consapevolezza, questa consapevolezza di causa-effetto, no? E la fregatura sta proprio qui, nel senso che le storie funzionano proprio così. Cioè, una storia funziona perché c'è una narrazione e una narrazione non è altro che una serie di rapporti di causa-effetto, no? Prendiamo un giallo, nel giallo cosa si fa? C'è un protagonista che di solito va e deve ricostruire una storia attraverso dei rapporti di causa-effetto, no? Andare a vedere perché quell'assassino lì ha ucciso quella vittima lì e via dicendo. Quindi cercare di capire il perché delle cose, no? Poi, alla fine, una narrazione funziona così. E vi faccio un esempio, non so se avete mai sentito questo esempio che in realtà è abbastanza famoso quando si parla di narrazione ed è l'esempio del re e della regina, no? Se io vi dicessi, ah ci sono, devi ricordarti questi due eventi e questi due eventi non sono legati fra loro, no? Il re è morto e la regina è morta. Detto così ovviamente me li ricordo perché sono due. Immaginate di averne 200 da ricordare. È difficilissimo ricordarsi degli eventi così puntuali che ti vengono detti sotto forma di elenco. Complicatissimo. Se io invece al contrario ti dico, ma il re è morto e la regina è morta di dolore, cosa ho fatto? Sostanzialmente ho soltanto legato i due eventi con un rapporto di causa-effetto, no? La regina è morta perché è morto il re. In quel caso lì, se voi avete 200 eventi e provate a legarli tutti con un meccanismo di causa-effetto, in realtà state sostanzialmente raccontando una storia, no? Volendo. E quello sarà per voi molto più facile da ricordare. Le storie funzionano per questo, perché i meccanismi di questo tipo per noi funzionano bene, per noi esseri umani. Infatti non so se avete mai fatto un corso di memoria, molte tecniche che vengono insegnate per ricordare per esempio tante informazioni funzionano proprio sull'associazione, no? Quindi sul racconta una storia fra queste cose e te la ricorderai meglio, no? Questo è il punto. Il punto è che appunto il cambiamento climatico, come dicevo, è difficile da raccontare in questi termini, perché servirebbe una profondissima conoscenza di questo argomento. Tant'è vero che nel caso del cambiamento climatico, ma anche di altri temi, come dire, la narrazione lineare, semplice, quella che ci racconta in modo abbastanza semplice quello che succede, per esempio quindi la narrazione che viene fatta da un certo tipo di persone, non so chi crede nella teoria del complotto, chi crede nel fake news o altro, funziona molto bene perché è una narrazione lineare dove ci sono sempre un responsabile, qualcuno che ha fatto qualcosa e per dirci in soldoni è il fatto, non so se avete sentito quando appunto è iniziata la pandemia, ebbene c'era chi ovviamente diceva e chi credeva di più alla storia del virus fuggito dal laboratorio, perché quella era una storia molto semplice da capire, è successo quello, è ovvio, qualcuno ha sbagliato, c'è un responsabile, è successo questo, e invece credere per esempio a un meccanismo di causa-effetto perché il virus è passato da una specie intermedia all'uomo e poi c'è stato il contatto, il passaggio da uomo a uomo, è molto più difficile da capire, è qualcosa di più complicato, è difficile quindi farlo arrivare, per questo che inizio vi dicevo, chi comunica la scienza fa un lavoro difficoltoso in questo caso, perché riuscire a smontare questa semplicità di racconto. Ultimo punto importante, ne abbiamo detti tre, ultimo punto, poi ce ne possono essere anche molti altri, l'ultimo è legato alla storia, delle storie che raccontiamo noi, in questo caso sto parlando di narrativa, di letteratura, del romanzo. Quando è nato il romanzo che noi oggi usiamo? Il romanzo che noi oggi usiamo è nato intorno alla metà dell'ottocento, è nato nel contesto della società borghese, per esempio in Francia, i romanzi di Flaubert, di Balzac, ci raccontano che cosa? Ci raccontano un mondo borghese che è un mondo cittadino di persone che parlano fra loro, che si incontrano, che raccontano ciò che succede fuori, rapporti sociali, interiorità, poi negli anni successivi per esempio si svilupperà il romanzo modernista, che è un romanzo che guarda dentro all'interiorità umana, alla psicologia e in tutto questo il mondo naturale dov'è? Il mondo naturale è laggiù, è lo sfondo, è lontanissimo, uno potrebbe dire sì c'erano anche i romanzi d'avventura, pensiamo Melville, Conrad, però anche lì c'è una fortissima componente di interiorità per esempio, alla fine prendiamo Moby Dick che è un romanzo in cui è fortemente simbolico, non è soltanto la caccia alla balena, c'è molto altro. Quindi di solito il mondo naturale, il mondo animale è lontanissimo da questo tipo di storie e le storie che noi raccontiamo oggi sono figlie di quelle storie lì, è la stessa tipologia di narrazione. Quindi questa è un po' la tesi di Amitav Ghosh che racconta nel libro che vi dicevo prima, La grande cecità, la grande cecità è proprio questo, usare uno strumento che è nato all'epoca e che sostanzialmente non riguardava mai il mondo naturale e quindi raccontare qualcosa come il cambiamento climatico, come gli effetti del cambiamento climatico sul mondo è particolarmente difficile perché le nostre storie sono storie di persone che fanno cose in un contesto umano di solito, poi ovviamente sto generalizzando nel senso che non è tutto così. Ok, quindi più o meno spero di essere stato abbastanza chiaro e aver fissato qualche punto del perché è difficile raccontare questo tipo di storie. Però vi dico qualcosa d'altro anche che dovrebbe invitarci ragionare sul fatto che speriamo arrivino queste storie che raccontano in modo coinvolgente temi difficili come questo perché raccontare storie ovviamente è molto utile. Raccontare storie, c'è una bellissima formula che ha coniato un Jonathan Gottschall che è uno studioso di come funzionano le storie e come hanno funzionato nella storia dell'evoluzione umana. lui dice che le storie sono moltiplicatori di esperienze, noi sostanzialmente ci raccontiamo storie e ce le raccontiamo dall'alba dei tempi se vogliamo usare questa espressione per migliorare le nostre conoscenze del mondo. Io ti racconto cosa mi è successo quindi tu sei più avvantaggiato nel caso ti dovessi trovare di fronte a questa situazione, è quello che facciamo tutti i giorni, quando spettegoliamo, quando facciamo gossip, quando raccontiamo la nostra vita agli altri, è questo che facciamo. Raccontiamo storie e le storie sono un moltiplicatore delle nostre esperienze, però perché le storie possono anche essere importanti per quanto riguarda la crisi climatica? Beh innanzitutto, poi fatemi dei cenni se sto andando lungo, non ho idea del tempo, ok, perché le storie sono importanti anche per la crisi climatica? Sono importanti perché come vi dicevo prima questo tema è molto difficile da veicolare, da raccontare, ma raccontando storie potrebbe essere più semplice capire alcune cose, fare alcuni passaggi. Un esempio, parlavamo all'inizio del tempo, di quanto sia spalmata un tema come la crisi climatica nel corso dei decenni, dei secoli, ebbene raccontare le storie a volte è un metodo per, e questa espressione è invece di un filosofo che si chiama Gunther Anders, per diventare degli acrobati del tempo, cioè riuscire a immaginarsi cosa può succedere per esempio fra 200 anni. Se noi andiamo a vedere i rapporti dell'IPCC, quello che gli scienziati studiano e gli scenari che cercano di veicolare, di far capire al mondo, cioè se non riduciamo le emissioni, per esempio andiamo verso quel mondo lì, oppure se lo facciamo andiamo verso quel mondo là, i scenari, ebbene se noi abbiamo una capacità di immaginarci cosa potrebbe succedere fra 150 anni, ebbene siamo dei veri e propri acrobati del tempo, quindi riusciamo a arrivare fin là, e le storie ci danno questa capacità, se sono storie che riescono a farci immaginare per esempio mondi lontani, epoche future, quindi le storie ci allenano, anche qui sono dei moltiplicatori di esperienze, lavorano in questo senso. altra cosa che è importante delle storie è che le storie aiutano a coinvolgere. Pensiamo alla scienza, molto spesso quando la scienza racconta i suoi dati è difficile farli arrivare, credetemi, è difficile farlo, nel senso che sono dati, sono tabelle, vi parlavo adesso degli scenari futuri legati per esempio all'emissione, sono dei grafici che sono anche bellissimi se uno vuole, se non riesce a comunicarli, però è difficile farli arrivare, è difficile mostrare un grafico e dire, ah guarda stiamo andando verso quella direzione o stiamo andando di là. Raccontare magari delle storie potrebbe essere molto utile per far arrivare dati, i numeri in modo più efficace, le storie coinvolgono sempre, e questa attenzione può anche essere in senso negativo, nel senso che se vi racconto una storia che in qualche modo vi retisce, vi affascina, ma vi porto su un percorso diverso, posso fare dei danni, quindi bisogna sempre usarle anche in modo, come dire, sensato le storie. E quindi, e qui c'ho direttamente un elenco, che cosa potremmo fare per raccontare storie diverse? Abbiamo detto finora che più o meno adesso usiamo formule abbastanza vecchie, che non riescono tanto a far fronte a un tema così complesso, no? Beh, io ho fatto un elenco di alcune cose che sono state scritte e dette in questi anni, no? Da alcune persone che studiano questi questi temi. E ve le elenco, ve le leggo. E sono alcune coordinate, ecco, che alcune hanno definito utili per magari chi racconterà storie domani. La prima potrebbe essere la rottura delle coordinate spazio-temporali, no? Come vi dicevo all'inizio, il legame crisi-climatica-tempo è una delle cose che complicano la narrazione, riuscire a rompere quella cosa lì e quindi a raccontare storie che in qualche modo sono più libere per quanto riguarda il tempo della narrazione, potrebbe essere una cosa interessante e utile da fare per questo tipo di nuove storie, no? Poi, come vi dicevo già prima, ci sono storie che lo fanno già, però non sono assolutamente la maggior parte, fidatevi. Ecco, questo è un passaggio importante a cui io tengo molto, un punto importante, l'allargamento della narrazione alle forme di vita non umane. Adesso, non so se voi quanto leggete o altro, però, insomma, quasi tutti i libri che leggiamo sono storie nostre, umane, abitate da esseri umani. Chi sta al di là della nostra umanità di solito è relegato un po' da parte, no? Quindi questo nella formula che ha usato Amitav Ghosh, che era l'autore di cui vi raccontavo prima nel suo libro La grande cicità, che è una formula molto bella, dice dovremmo essere in grado di immaginare gli esseri e gli eventi inimmaginabili della nostra era. Perché lui dice come posso raccontare, non so, l'estinzione di una specie? Da un punto di vista narrativo, è una storia, come posso raccontarla? Magari dal punto di vista della specie che si sta estinguendo, come posso fare? È molto, molto complicato. Non so se avete mai provato a scrivere una storia, non è facile. Quindi provare a immaginare eventi ed esseri che adesso sono attualmente magari inimmaginabili, no? Ma l'abbiamo visto, anche solo raccontare una pandemia, che cos'è un virus, come agisce, difficilissimo, no? Perché noi siamo abituati a raccontare noi. Infatti alla fine cosa facciamo di solito? Umanizziamo il virus che ci attacca, fa cose che siamo soliti fare noi, no? In realtà. Poi altro può essere un recupero di alcuni punti di vista che non sono punti di vista dominanti, quindi per esempio quelli occidentali, cioè potremmo andare al di là di questo tipo di racconti. Le storie che raccontiamo sono basate sostanzialmente, almeno dal nostro punto di vista, su quella che è la cultura occidentale e il modo di raccontare le storie occidentali. Potremmo recuperare, per esempio, non so, temi dell'animismo, so che qui dirlo ovviamente in un contesto scientifico è un po' particolare, perché dire bisogna andare a recuperare, non so, temi e storie dell'animismo, cioè andare a vedere se altre culture hanno raccontato delle cose in modo diverso, può essere scivoloso magari, ma può essere interessante per avere un punto di vista nuovo, diverso. Può essere anche interessante un ripensamento dello spazio della geografia, cioè cercare di far muovere i nostri personaggi in mondi nuovi e in geografie nuove, anche qui da dire sembra una cosa strana e difficile da fare, però bisognerebbe mettersi al tavolo a scrivere e provare. Altra cosa, siamo di fronte a una catastrofe, perché non proviamo a raccontare catastrofi passate? Come sono andate? Che cosa è successo in quei casi? Questo potrebbe essere molto importante, come hanno agito gli esseri umani del passato in condizioni di crisi, potrebbe essere utile per noi, dato che ci troviamo in questo scenario. Altra cosa, visto che abbiamo detto che è difficile raccontare un problema che ci riguarda tutti, l'utilizzo per esempio di più voci, quindi romanzi o racconti a più voci, a più autori, sono stati fatti degli esperimenti di questo tipo negli ultimi anni e sono anche molto interessanti. e cosa dire poi? Alla fine, una cosa che è stata detta e che è molto importante è che, come vi dicevo prima, il romanzo che usiamo oggi è un romanzo nato nella metà dell'Ottocento, nella metà dell'Ottocento più o meno. Prima non raccontavamo storie, certo che le raccontavamo, però usavamo altre formule. Non so, usavamo la tragedia al teatro, oggi non si parla mai più di tragedia, forse ne abbiamo abbastanza, non vogliamo più usarle, però era una forma narrativa molto importante la tragedia, era stata per diverso tempo, oggi non la usiamo più. I romanzi ibridi, per esempio prima che arrivasse il romanzo Borghese dell'Ottocento raccontavamo storie che in realtà, come dire, sono molto diverse dai romanzi di oggi ed erano storie in cui all'interno c'era di tutto, anche nel Medioevo si faceva così, cioè erano storie in cui non c'era soltanto una narrazione, ma a un certo punto c'erano tantissime divagazioni, discussioni sui temi più incredibili, dobbiamo anche pensare a un mondo che non aveva la televisione, non aveva internet, quindi una storia era anche il momento per raccontare qualcosa di diverso, per fare un ragionamento sulla realtà, quindi alcuni per esempio famosi romanzi medievali, se possiamo chiamarli così, erano sì delle storie ma erano anche dei momenti in cui ragionare sul presente, cioè sul loro presente, quindi il recupero di un certo tipo di romanzi ibridi potrebbe essere interessante e qui vi faccio notare che comunque la strada che sta intraprendendo un po' la scrittura e in generale l'editoria oggi va un po' proprio in questa direzione, cioè stiamo un po' abbandonando la fiction pura, cioè la letteratura pura per delle forme ibride che sono a mio avviso molto interessanti. Adesso non so quanto tempo ho ancora, 10 minuti, meno 5, 7, andrò sui 7, no tanto ho quasi finito, anzi ho praticamente finito, volevo soltanto dirvi ancora due cose, nel senso che ok vi ho elencato questi modi nuovi di raccontare storie, ci sono degli esempi, sì sicuramente, però come vi dicevo fino a poco tempo fa, cioè come vi scusate, come vi dicevo poco fa, in realtà le storie che raccontiamo noi dobbiamo sempre intenderle come storie molto umane e qui vi faccio un esempio, non so se avete mai letto Flatlandia, un romanzo molto famoso di Hebbott, è una storia in sostanza dove i protagonisti sono delle figure piane, provatelo se non l'avete mai letto, è un'esperienza curiosa, è un mondo a una dimensione dove i protagonisti sono triangoli, cerchi che si muovono e fanno cose, poi a un certo punto inizia a leggere e dice ma che mondo strano, questo sì che è veramente un romanzo che va, oddio, lontanissimo dalla nostra realtà, poi inizia a leggere e capisce che in realtà il triangolo è un personaggio, il cerchio è un altro personaggio, hanno delle cose da fare, degli obiettivi e quindi sono in sostanza delle figure piane ma sono degli esseri umani, no? Questa, come vi dicevo prima, è la nostra, come dire, incapacità di andare al di là di noi, no? Nel senso che alla fine tutte le storie che raccontiamo sono storie umane o comunque fortemente umanizzate e se ci pensate in realtà e qui torniamo un attimo alla scienza visto che siamo a un festival scientifico, in realtà in alcuni contesti scientifici ci sono degli sforzi a livello di immaginazione e di racconto che vanno molto più lontano, pensiamo a un certo tipo di geometria o di matematica, all'astrofisica. Ebbene lì sì che bisogna provare a raccontare cose distantissime da noi e lì sì che c'è uno sforzo incredibile, quindi potrebbe esserci un bel rapporto a volte fra questo tipo di scienze e la narrativa. Finisco dandovi qualche consiglio di lettura, visto che abbiamo detto che ce ne sono già di libri che fanno questo tipo di operazione che vanno a raccontare questi temi complessi. Uno è stato abbastanza famoso negli ultimi anni perché ha vinto anche il premio Pulitzer per la narrativa nel 2019, è un romanzo di Richard Powers che è un autore americano che utilizza moltissimo la scienza nei suoi romanzi, utilizza in modo in molti particolari, è un grande narratore, il sussurro del mondo è tutto dedicato all'universo vegetale, anche alle ultime teorie, teorie molto speculative su che cos'è, cosa sono i vegetali, se riescono a comunicare fra loro e via dicendo, ed è un romanzo molto bello perché è un romanzo mondo, un romanzo corale che attraversa tutto il Novecento e racconta tantissime storie e a un certo punto diventano veramente fondamentali e centrali le piante, quindi un romanzo che tenta di andare al di là di noi è sicuramente questo. Un altro è Il Paese delle Maree che è di Amitav Ghosh, l'autore che vi ho citato molte volte durante la nostra chiacchierata, ambientato nelle Sundarbans, che sono questa grande foresta di mangrovie che c'è nel golfo del Bengala, e lui in questo romanzo racconta come esseri umani e territorio interagiscono e vivono in un contesto che è in costante cambiamento, perché in quel luogo le maree sono costanti, alcune volte possono arrivare a modificare nettamente il territorio e su tutto, come dire, incombe l'inalzamento del livello del mare, quindi che è una minaccia concreta. E l'ultimo è un autore italiano che si chiama Bruno Arpaia, magari qualcuno di voi lo conosce, è anche un grande traduttore di romanzi spagnoli e latinoamericani, e ha scritto questo romanzo Qualcosa là fuori, che è un romanzo che potremmo da un lato definire quasi un po' catastrofista, di quelli che ti raccontano come quei film di cui parlavo prima la catastrofe mentre avviene. Lui racconta di questo mondo del prossimo futuro in cui la situazione degenera e gli esseri umani, l'umanità, deve fronteggiare gli effetti di una crisi climatica che diventano veramente effetti catastrofici. Quindi il mondo cambia totalmente, a un certo punto l'Italia è in una situazione talmente critica al punto che dall'Italia partono le carovane di migranti, quindi qui c'è anche un discorso interessante, sul fatto che diventiamo noi in quel romanzo quelli che emigriamo, che cercano di raggiungere la Scandinavia dove c'è ancora una parvenza di società funzionante e ci sono sicuramente temperature e condizioni ambientali più vivibili per noi. Ed è un romanzo molto bello anche perché il protagonista è uno studioso di neuroscienze e quindi mentre c'è questo racconto catastrofico lui ci tenta di spiegare anche perché noi non riusciamo a capire ciò che sta succedendo, e perché noi facciamo resistenza quando di fronte abbiamo un tema così complesso come il cambiamento climatico, quindi c'è anche questo ulteriore pieno di lettura. E niente, quindi cosa dire, rispetto a quello che vi raccontavo all'inizio che c'è ancora questo buco, cioè ci sono poche storie, storie vere che raccontano questo genere di problemi, direi che a livello diciamo teorico ormai il lavoro è stato fatto, nel senso si è capito perché, il punto è che adesso si devono, come dire, muovere gli autori, nel senso che si spera che nei prossimi decenni arrivino storie di questo tipo, però devo dire che negli ultimi anni ho già visto cose molto interessanti accadere, quindi si spera che arriveranno e arriveranno in gran numero. E niente, io ho finito così, spero di essere stato, non so se c'è qualche domanda, io comunque sono qua, poi dopo, anche se quindi volete chiedermi, potete raggiungermi. Ah sì, come scusa? Ah sì, Qualcosa virgola la fuori, che è un titolo anche molto inquietante, molto bello, e quello è il titolo del romanzo di Bruno Arpaia, tra l'altro è stato molto apprezzato, molto letto. Io vi ringrazio, spero di avervi raccontato qualcosa di interessante. Grazie. Grazie. Grazie.